Allora, rientriamo in studio, lo facciamo subito con l'On. Borgonzoni, a cui chiedo un commento a queste parole del portavoce di Emmanuel Macron, che sono, diciamo, l'ultima reazione internazionale a quanto sta accadendo intorno alla vicenda Aquarius, che non riguarda evidentemente solo questa nave, perché altre ne sono partite e sicuramente altre ne partiranno. Sono state particolarmente dure, perché nei confronti dell'Italia ha usato termini importanti, responsabile, cinica, addirittura vomitevole, ha chiamato la nostra posizione. Ovvio è che quello che è accaduto, quello che stiamo vedendo ora, non è rilegato solamente a questa vicenda, ma è per svegliare tutta l'Europa, che di fatto ha abbandonato l'Italia, ha tutto quello che è il percorso per aiutare, perché ricordiamo prima di tutto che a salvare le vite in mare ci sono gli italiani, perché ho sentito in questi due giorni dire che abbandoniamo le persone, sembra quasi che le facciamo morire, io voglio ricordare che andiamo noi a aiutarle dove non va tutto il resto d'Europa. Io comprendo ci siano nazioni magari che sono, fra virgolette, spaventate da rivedere quello che sono gli accordi a oggi, perché di fatto l'Italia è diventato il campo profughi un po' di tutta Europa, non c'è stato l'aiuto che doveva esserci, sulla questione delle quote sappiamo benissimo che non è finito, come tutti avremmo sperato la ripartizione, ma anche perché gli altri stati riconoscono solamente due degli status che invece l'Italia riconosce, perché delle persone che arrivano, voglio ricordare che la grande maggioranza è di fatto clandestina, ha finito il percorso, non ha nessuno status. Poi della parte restante che riesce ad accedere a uno dei tre status, buona parte accedono a quell'umanitario, umanitario che viene riconosciuto solo da noi, per cui non finirà mai in nessun tipo di ridistribuzione, per cui rispetto ai numeri che abbiamo, anche se ci fosse stata quella ridistribuzione, sarebbero lo stesso rimasti qua. Voglio anche dire che sicuramente sta già portando dei frutti al di fuori delle offese, che rimando al mittente che arrivano dalla Francia, con la Germania si sta aprendo una discussione, non solamente con la Germania, proprio per venire in soccorso in aiuto dell'Italia, perché voglio ricordare prima di finire che se vogliamo che non muoia più gente in mare, la gente non deve partire. Con le ONG, quando si sono avvicinate di più alle coste libiche, Però ora si sta proprio creando un doppio binario, appunto, le navi delle ONG e le navi della... Però le ONG, io ricordo addirittura che la denuncia fu fatta dal medico del docufilm Fuoco a Mare. Abbiamo anche un ministro degli interni, che in qualche modo invece aveva elogiato, fino a pochi giorni fa, l'operato di Minniti, aveva definito Minniti, un ministro aveva portato avanti un lavoro discreto, che però ora sembra in qualche modo rinnegare, perché comunque la politica dei porti chiusi è un po' in contraddizione con tutta appunto quella politica di... Che anche Minniti voleva comunque, aveva provato a mettere in campo del Rio, è intervenuto... C'è un'associazione però di emergenza molto molto lontana nei numeri di Minniti, in un'intervista di ieri, dell'altro ieri, dice io i porti non li ho chiusi neanche quando in 36 ore arrivarono 26 navi con 13.500 migranti a bordo. Tanto per avere... Si, voleva chiuderli, però lì è stato Del Rio a non farli chiudere, per cui ricordiamo che Minniti le avrebbe chiusi. Però posso rispondere... Quello che ha fatto Minniti l'ho ricordato, ha ridotto degli 80% degli sbarchi. Chiediamo allora di farmi delle domande diverse, mi è stata chiesta questa cosa, se vuole non rispondo. Assolutamente, per cui sicuramente c'è stato un lavoro da parte di Minniti su vari fronti, fra cui sicuramente anche il fronte libico, io voglio ricordare però che sono diminuiti gli sbarchi dalla Libia, abbiamo avuto un'impennata degli sbarchi cosiddetti fantasma sulle coste siciliane e della Sardegna che hanno dei numeri che hanno toccato dei punti altissimi, soprattutto durante l'estate. Voglio ricordare che dall'inizio di quest'anno sono stati pochissimi i giorni di bel tempo per cui di navigazione e non sappiamo quello che ci aspetta da domani in poi, con gli arrivi, abbiamo visto non a caso le ultime partenze, quello che sta succedendo con i numeri che abbiamo davanti in questi giorni. Io ritengo che non siamo così soli in Europa, anzi l'Europa dopo questa posizione che abbiamo preso mi sembra che stia cambiando rotta e che comunque stia aprendo a una linea, l'abbiamo sentito anche prima durante uno dei collegamenti. Ha detto la Francia, la Spagna, sono paesi vicini a noi. C'è sicuramente un'apertura verso quello che è, e per me sarebbe giusto, di fare i campi profughi, ma non in Libia, perché in Libia rimaniamo a riscacco delle tribù o anche di chi comunque diventa, va a governare. Vanno fatti, o nei posti di partenza, o comunque in Tunisia. Vanno fatti nei posti di partenza. Sull'opportunità di creare degli occidentali, ho messo da una guerra. Salvini con la Tunisia ha cominciato malissimo, Salvini. La Tunisia voglio ricordare che a ottobre dell'anno scorso proprio la Tunisia ci ha detto state attenti perché con gli sbarchi fantasma che stanno arrivando sulle vostre coste c'è il rischio che ci siano tantissimi terroristi o delinquenti. Ma ricordavo cosa ha fatto la Tunisia. No, ma voglio dire, ce l'ha detto la Tunisia, poi se ci sconvolgiamo perché lo diciamo noi, abbiamo solamente ripetuto quello che sei mesi fa ci ha avvisato e ha mandato il segnale alla Tunisia proprio per dire state attenti. Perché vanno fatti i campi profughi là? Sarò bravissimo, perché la gente che scappa da una guerra nella persecuzione non deve fare quella attraversata. Tutte le altre persone, noi non ci possiamo permetterle di prenderle in Italia perché se le prendiamo qua per farle finire in mano al caporalato, in mano alla criminalità organizzata, non siamo i buoni tanto che raccontiamo in giro. Però fare i campi profughi in loco per evitare appunto che affrontino tutta la traversata e quindi che arrivino attraverso i barconi, comunque occorre testa una serie di relazioni, no? Sono tutte relazioni come gli accordi bilaterali, c'è un lavoro che molti ne abbiamo. Io volevo ricordare che Dublino 3, la firma c'è stata e non c'è stata nessuna discussione da parte del Partito Democratico, quando Ministro era Alfano a governo c'era Aletta e non mi sembra che nessuno in quel momento, che era il momento veramente per battere quei famosi pugni e cercare di ridiscuterla perché quando era stata firmata la volta precedente c'era tutto un problema di immigrazione che veniva dall'est per cui ovviamente non era penalizzante per il nostro paese. Va rivisto, ma va rivisto nel modo migliore per l'Italia, va rivisto dove le quote non debbano essere volontarie rispetto a chi arriva se vuole andare via dal paese o non andare via dal paese, cosa che c'era all'interno di quel testo. Va visto una serie di cose che sono legate, giustamente come anche prima si leggeva dal comunicato dall'agenzia di uscita di Matteo Salvini, legate ai fondi che noi stiamo spendendo, io voglio ricordare che sono quasi tutti perché è una parte irrisoria, quella che arriva dall'Europa, italiani, sono 5 miliardi spesi e tirati fuori, di fatto tutti perché è tolto 80 milioni, sono tutti italiani e nostri per un'accoglienza che è stata sbagliata, un'accoglienza che anche quella noi vorremmo cambiare che è l'altra parte, l'altra faccia nella medaglia, l'accoglienza come viene ora gestita perché c'è stato un business, perché non ci sono stati i controlli necessari anche da parte del pubblico, perché io penso a quelle realtà dove i prefetti comunque hanno continuato a far vincere dei bandi a cooperative che tenevano persone in posti veramente, a dire, indecenti. Disumani, diciamo. Lucia, quindi se mi chiedi io ho più preoccupazione per quello che sarà il programma del Ministro della Giustizia. Borgonzoni può rassicurare l'aravetto sul fronte della giustizia sul programma di governo? Su quello sicuramente, ma penso che l'aravetto abbia comunque letto l'accordo di governo e magari sono dichiarazioni che possono essere citate anche in passato da parte di esponenti del Movimento 5 Stelle che possono avere creato questa preoccupazione, però il contratto di governo penso che possa essere, soprattutto essendoci all'interno della riga, una garanzia per quello che è la linea che abbiamo sempre portato avanti, perché voglio ricordare, ormai lo diciamo in tutte le sedi perché vedo che spesso anche le trasmissioni diciamo così si confondono volontariamente o meno, l'alleanza c'è e ancora con il centrodestra all'interno di quell'accordo c'è tantissima buona parte di quello che era il programma del centrodestra e noi lo tuteleremo perché noi tuteliamo comunque chi ha votato noi e ha votato una coalizione che di fatto non ha vinto perché non aveva i numeri per vincere con questa legge elettorale ma è arrivata comunque prima. Ecco su questo però una domanda che la devo fare perché c'è tanto del programma di centrodestra, c'è tanto della voce del leader della Lega Matteo Selvini che è uno dei vice presidenti del Consiglio, l'altro sembra un po' messo all'angolo perché sappiamo che parte dell'elettorato del Movimento 5 Stelle, la pancia del Movimento 5 Stelle anche sui temi dell'immigrazione non è che proprio i condivida pienamente, insomma è emerso un pochino di... ieri c'è stato quel vertice in emergenza con tutte ovviamente le istituzioni competenti del caso, un po' di malumore di alcuni è emerso. Sicuramente voglio ricordare siamo due movimenti diversi per cui è ovvio che la sintesi è stato un lavoro anche molto duro perché non è che quando abbiamo fatto questo accordo è stata una cosa semplice, qualcuno ha dovuto cedere su qualcosa, qualcuno su qualcos'altro. Abbiamo dei tipi di linguaggio sicuramente in certe occasioni differenti però mi sembra che il fronte con magari distinzioni verbali più che sostanziali sia compatto e unito su questa situazione e sul modo con cui vogliamo affrontare una situazione che voglio ripeterlo in primis serve proprio e anche per le persone che partono che quella attraversata non la devono più fare e l'unico modo per impedire a queste persone di fare quella attraversata è trovare un foronte comune con tutto il resto dell'Europa perché altrimenti noi non ce la facciamo soli.